L'accordo europeo è un bluff, assolutamente, non ci sarà nessuna ripartizione, tant'è che Macron lo ha già detto che lui non riceve i clandestini, quindi resteranno tutti in gobba a noi e ce li dovremo tenere, perché il cambiamento di politica in questo campo è stato disastroso, già i numeri dimostrano che sono ricominciati gli sbarchi a tutto spiano e la cosa è allarmante, mentre Salvini aveva il pugno di ferro era riuscito a imporre una disciplina che oggi si è già dissolta e questo è rischioso.